E' stato presentato questa mattina presso il Teatro Comunale di Sant'Arsenio il nuovo sito internet del Comune di San Pietro Altanagro. L'assessore al turismo e cultura del Comune di San Pietro, Antonio Pagliarullo, ha incontrato gli alunni delle scuole medie di Sant'Arsenio, San Rufo e San Pietro Altanagro per presentare il nuovo sito, raggiungibile all'indirizzo www.sampietroaltanagro.eu, dedicato alle risorse turistiche di San Pietro, del Vallo di Diano e dei territori limitrofi. L'assessorato con questa iniziativa, ha spiegato Pagliarullo, intende mettere al centro del progetto la scuola, aprendo la discussione con i ragazzi delle medie inferiori. Il sito internet è nato all'interno di un progetto più ampio denominato Sentieri e Mulini, qualità della vita, salute e natura portata di mano, con il quale si intende innescare un sistema di promozione del territorio basato su forme di comunicazione innovative e che puntino alla formazione di un turismo di qualità. Al termine della presentazione è stata premiata la studentessa Monica Nistor, quale vincitrice del concorso di idee per la creazione di un bozzetto raffigurante un elemento caratterizzante di San Pietro Altanagro, concorso al quale hanno preso parte i ragazzi della classe terza B della scuola secondaria di primo grado di Sant'Arsenio. Grazie per la visione!